Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo continuare a parlare della prospettività tra le forme di prima specie, quindi riprendiamo il discorso dell'ultimo video, non sto a ripetere tutto, magari qua e là do delle informazioni per ritornare a concetti che magari possono risultare particolarmente difficili. Quindi oggi proprio volevo, proseguendo il video dell'ultima volta, vedere le applicazioni pratiche per mettere in corrispondenza due forme di prima specie, che sono per esempio due fasci dirette oppure due punteggiate. Vediamo che l'operazione, ma questo l'abbiamo anche già visto nel video precedente, l'operazione più semplice, quindi consiste semplicemente nella sua genesi proiettiva, alternando che la genesi naturale, diciamo, che è più consueta, che si legge in tutti i libri di geometria proiettiva, alternando le due operazioni fondamentali che sono la proiezione e la sezione. Oggi però vedremo anche altre modalità, quindi vedremo come si utilizzano il centro e l'asse della collineazione e un ulteriore terzo modo. Chiaramente questi modi aggiunti sono, come dire, dei pretesti didattici per vedere concetti e nozioni un po' più complesse, che però torneranno utili nel seguito quando parleremo della proiettività. Per adesso sarebbe sufficiente una genesi proiettiva del tipo proiezione e sezione, quindi per esempio partiamo da un fascio di rette. Immaginiamo di avere un fascio di rette, come prima operazione di centro A, scusate, come prima operazione vado a sezionare il fascio, come seconda operazione vado a proiettare gli elementi ottenuti da questa sezione, quindi prendo un secondo punto B esterno e proietto i punti che abbiamo appena ottenuto. Quindi rivedendola, diciamo, a rallentatore queste due operazioni. Prima di tutto, dato il fascio, quindi esiste una forma completa con i suoi infiniti elementi che sono le infinite rette del fascio, io seziono con una retta che vedremo è l'asse, non è altro che l'asse della prospettività. Questa sezione comporta la creazione di una nuova forma che è una punteggiata, quindi ottengo gli infiniti punti di questa retta, che potrei chiamare S. Gli infiniti punti di questa retta sono gli elementi della punteggiata. Seconda operazione, proietto dal centro B gli infiniti punti della punteggiata, quindi ottenuto A, per esempio, che è l'intersezione tra la retta A del fascio di centro A con la retta S, e proietto A da B e quindi ottengo la retta A'. Quindi il meccanismo è molto semplice, ad ogni retta, in questo modo, ad ogni retta del fascio di centro A corrisponderà una, una sola retta del fascio di centro B in modo reciproco, quindi è vero anche il viceversa. Naturalmente ogni retta, compreso la retta che proietta il punto improprio, è valida in questa corrispondenza. Ora, la prospettività è quindi il modo più semplice di mettere in corrispondenza due forme di prima specie, non è l'unico, c'è anche la proiettività, però, chiaramente, può anche non dipendere da noi. Quindi, se le due forme sono messe in modo tale per cui non si forma un'asse, quella non è una prospettività, quindi dovremo necessariamente utilizzare altri procedimenti. Ora che però si forma un'asse, è evidente l'esistenza dell'asse, allora possiamo determinare una qualsiasi retta corrispondente X del fascio di centro A con questa operazione semplicissima che vi ho appena descritto. Cioè, prima parto da X, dalla retta X, che seziona l'asse in un punto e poi proietto quel punto. Ecco che trovo X'. La prospettività si riconosce per due fatti fondamentalmente. Uno è questo, cioè l'esistenza dell'asse, che ha, diciamo, una funzione, quella di raccogliere i punti di intersezione di rette corrispondenti, quindi ogni coppia di rette corrispondenti si incontra in punti allineati sull'asse. La seconda cosa, che è comune in tutte le prospettività tra fasce, è l'esistenza della retta unito, cioè dell'elemento unito. Qual è l'elemento unito? È molto semplice. Immaginiamo di proiettare una retta, quella retta del fascio di centro A che passa per B, quindi questa retta la potremmo chiamare retta Y. Questa retta Y interseca l'asse in un certo punto, ora qui sembrerebbe quasi parallela, però chiaramente è un caso che non vuol dire nulla, in un certo punto, quindi immaginiamolo qui lontanissimo, non importa, dopodiché io vado a proiettare quel punto, che ora è molto lontano, dal punto B. La corrispondente necessariamente sarà sovrapposta alla retta Y, quindi in questo caso abbiamo un elemento unito. Ora, l'esistenza dell'elemento unito è una caratteristica della prospettività, una proiettività non ha l'elemento unito, quindi noi riconosciamo la prospettività dall'esistenza dell'asse, nel caso tra fasci, e dell'elemento unito, che sono una coppia di rette corrispondenti, sovrapposte, che qui chiamo U, retta U. La stessa cosa in modo duale la posso ottenere tra punteggiate, quindi immagino di avere due rette punteggiate, possiamo anche cambiare foglio, quindi abbiamo sempre attraverso, immaginiamo una genesi, sempre di tipo proiettivo, quindi alternando la proiezione alla sezione, questa volta, prima avevo prima sezionato, adesso prima proietto, quindi parto al contrario, quindi data la retta A della punteggiata A, scelgo un punto esterno S, qui avevo chiamato asse, qui chiamo centro, proietto gli infiniti punti della retta, quindi ottengo in sostanza un fascio di rette, dopodiché prendo l'elemento B, cioè la nuova punteggiata, che va a sezionare il fascio di rette, quindi in modo duale ho ottenuto la medesima corrispondenza di prima, cioè ho ottenuto punti corrispondenti, quindi A, il punto A, elemento A, che appartiene alla retta A, corrisponde all'elemento A', il punto B corrisponde a B', eccetera, eccetera. Quindi il meccanismo è sempre lo stesso, solo che va visto in modo duale rispetto a quello che abbiamo visto prima, anche qui si crea un centro e si crea un elemento unito, quindi noi riconosciamo la natura della corrispondenza semplicemente se esiste a partire dall'esistenza del centro e dell'elemento unito. Qual è il centro? Il centro è la retta, e scusate il punto, che in questo caso ho scelto in modo arbitrario, che allinea coppia di punti corrispondenti, mentre prima l'asse, vi ricordo, era il luogo dove si intersecavano rette corrispondenti. E poi l'esistenza, abbiamo visto l'esistenza dell'elemento unito, che in questo caso non è altro che l'intersezione dei due sostegni delle due forme, mentre prima era l'allineamento, quindi è in modo duale, quindi c'è la retta che allinea due punti, adesso è il punto, dualità, che è l'intersezione dei due sostegni, cioè le due rette A e B. Quindi l'intersezione delle due rette è l'elemento unito, che io chiamo U, e anche qui potrei scrivere Y, che concide, l'elemento Y appartenente ad A, che concide con l'elemento Y primo, che appartiene a B. E' chiaro che questo è l'elemento unito, perché se io prendo, facciamo così, parto da Y, che è questo, proprio il punto di intersezione delle due rette, lo proietto dal centro S, poi lo seziono con la retta B, chiaramente il corrispondente sarà sempre lo stesso, quindi molto semplice vedere, con una dimostrazione di tipo costruttivo, l'esistenza sia della retta unita, nel caso trafasci, della corrispondenza trafasci, sia del punto unito nel caso della corrispondenza prospettiva tra punteggiate. Allora, come vi anticipavo? Allora, finiamo il discorso, qui abbiamo fatto l'esempio, come faccio a determinare, dato un qualsiasi punto X della retta A, della punteggiata A, come faccio a determinare il corrispondente? Semplicemente proietto e seziono, quindi proietto da X, l'elemento X dal centro S, poi seziono con il sostegno della punteggiata B. L'intersezione, quindi questa sezione è il punto corrispondente, quindi ho creato una corrispondenza B univoca, che qui è molto semplice, banalissima. Vedremo poi più avanti, in altri video, non oggi, quindi ci arriveremo con calma, gradualmente, vedremo la proiettività, quindi una corrispondenza che si può realizzare anche per posizioni generiche di queste due rette. Un po' accennato nel video precedente, vi faccio una breve sintesi, ho accennato che la genesi può essere anche di tipo di movimento, cioè io posso immaginare che, per fare un esempio veloce, la retta A, questa, la retta A, composta dai suoi infiniti elementi, la retta B, c'è la punteggiata B, composta dai suoi infiniti elementi, li posso immaginare come appartenenti a lucidi diversi, sovrapposti, che io posso spostare in una diversa posizione, per cui questa prospettività salta, perché spostando le due forme non ci sarà più un elemento unito, non ci sarà più un centro. Il centro degenera, anzi, in una conica, vedremo, una conica che io chiamo conica generatrice della prospettività. Così anche nel caso di due fasci, se io sposto i due livelli, l'asse della prospettività degenera nella conica della prospettività. Allora, è interessante quindi, diciamo, costruire, appunto per anticipare quello che vedremo nella prospettività, perché chiaramente mancando l'asse, mancando il centro, non potrò più utilizzare questi elementi della prospettività, e quindi dovrò cercare un altro sistema per praticare la prospettività nel caso della proiettività, appunto nel caso di forme proiettive. E allora si introducono nuovi elementi, vedremo che esiste, vedremo meglio nei prossimi video, esiste un asse, esiste un centro che si chiama della decollineazione, che appunto hanno questa funzione, ci permettono di praticare la prospettività, la proiettività, quindi appunto in assenza di questi elementi, centro e asse. Allora, il metodo è questo qui. Io devo, in sostanza, immaginiamo di avere due fasci. Allora, questa procedura può essere applicata, uno nel caso di una proiettività, due nel caso in cui io non ho a disposizione il centro o l'asse della prospettiva, dell'attività della prospettività, perché magari sono punti inaccessibili, tutto qua, quindi posso non riuscire a praticarlo, non per la mancanza, ma perché è un punto inaccessibile, ho la retta inaccessibile, allora, oppure posso non sapere che sono prospettive, quindi ho due fasci e non mi accorgo che sono prospettive, perché magari non vedo che c'è questo allineamento particolare. Quindi io ho due fasci che vi disegno prospettivi, e cioè faccio in modo che le rette corrispondenti si incontrino su una stessa retta che l'asse della prospettività, e però faccio finta di non saperlo, e quindi non posso usare l'asse, e allora devo trovare un sistema diverso. Il meccanismo è questo qui, cerco un colore, prendo una retta, per esempio la retta A del fascio B, la retta A del fascio di centro A, e ripeto, questo l'asse posso anche non averlo, cioè immaginate che non sia neanche disegnato, quindi questo lo chiamo A' e questo lo chiamo A, sono una coppia di rette corrispondenti, e dico che queste sono due sostegni di due punteggiate. In questo modo devo creare la punteggiata. In che modo creo la punteggiata? Sezionando la retta, l'elemento del fascio di centro B, con il fascio di centro A. Il fascio di centro A taglia la punteggiata, e il fascio di centro B taglia l'altra punteggiata, quindi diciamo ogni punteggiata va a tagliare l'altro fascio, va a sezionare l'altro fascio, quindi si creano due punteggiate che sono prospettive. Perché sono prospettive? Perché c'è l'elemento unito. Qual è l'elemento unito? L'elemento unito è di due punteggiate, è questo, è proprio questo, cioè dove le due rette si intersecano. Quindi questo vuol dire che le due punteggiate sono prospettive. Ora individuo gli altri elementi, quindi per esempio questa retta B che taglia la punteggiata A', l'elemento C che taglia la punteggiata A'. Quindi questi sono due punti che per brevità potrei chiamare 1 e 2. Stessa cosa faccio dall'altra parte, quindi vado a vedere l'elemento B che taglia la punteggiata A. Troverò un punto che qui mi si forma un po' lontanuccio, quindi immagino di poterlo trovare, di averlo accessibile. E poi abbiamo questo elemento che va sempre a tagliare la punteggiata A. Per sfortuna anche questa retta va fuori dal foglio. Diciamo, non ho il tempo di fare la, diciamo, rifare il disegno, fare tutto in modo che rientri, però non è difficile, è difficile immaginare che il punto 1 corrispondente a questo si trova all'incirca qua sotto. Lo scrivo in questo modo. Il punto 2 corrispondente di questo si trova all'incirca là sopra. Quindi facciamo una freccia per indicare che il punto 2 si trova là sopra. Ora cosa faccio? Unisco il punto 2 con il punto 2 primo, quindi ho all'incirca una retta che, se siete d'accordo, converge in questo modo. Ok? Dobbiamo immaginarlo, immaginare di avere fisicamente questo punto. Poi c'è il video dove spiego i punti inaccessibili, quindi in realtà quando il punto 2 primo è inaccessibile c'è il procedimento, andatevi a vedere il video sulla dualità dove spiego il teorema dei triangoli omologici e le costruzioni relative per risolvere i problemi di punti inaccessibili. Quindi in realtà anche quando noi un punto è fuori dal foglio, abbiamo un punto accessibile e uno no, si può fare, si possono unire questi due punti. Quindi anche questo sarebbe un punto aggirabile. e poi uniamo 1 con 1 primo l'intersezione, cioè cosa stiamo cercando? Stiamo cercando il centro della prospettività. Abbiamo detto che questa è una punteggiata prospettiva, questa è una punteggiata prospettiva, sono prospettive perché esiste l'elemento unito e quindi cerco il centro di questa prospettività tra punteggiate e l'intersezione, quindi unisco coppie di punti corrispondenti, quindi abbiamo detto il centro della prospettività tra punteggiate allinea punti corrispondenti e quindi questo qui è il centro di questa prospettività. Chiamiamolo S. Allora, S o C, come volete, non è altro che si chiama centro di collineazione. Va bene? Centro di collineazione perché collineazione significa semplicemente un altro modo di dire corrispondenza e poi vedremo che ci sono altri metodi, altri procedimenti, ma per il semplice motivo che sono infinite le prospettività che io posso individuare per mettere in corrispondenza diciamo prospettività di passaggio perché questa che abbiamo costruito ora tra le due punteggiate è una prospettività utile ausiliaria di passaggio per mettere in corrispondenza lo scopo finale di mettere in corrispondenza le due forme, due fasci dirette. Quindi sono infinite queste prospettività di passaggio quindi il centro S che ho trovato ora è uno particolarissimo che si costruisce in questo modo e che si chiama appunto centro della collineazione. Tutte le altre che sono infinite prospettività sono semplici prospettività quindi il centro di un'altra qualsiasi altra prospettività che io posso costruire di passaggio non sarà il centro di collineazione ma sarà un semplice centro di quella prospettività. Poi vedremo più avanti che caratteristiche ha il centro di collineazione rispetto ad altre. Quindi questo però ci serve per dire che questo è un secondo procedimento per mettere in relazione due fasci ma volendo ce n'è un terzo nel senso che io posso dire posso creare una prospettività di passaggio qualsiasi non questa particolare che però magari vi faccio vedere in un altro video. Quindi magari oggi vediamo solo questo e vediamo quindi come mettere a questo punto come si fa quindi come vedete io l'asse non lo sto usando come se non ci fosse come si fa a creare questa corrispondenza e a praticare questa corrispondenza in assenza dell'asse della prospettività. Allora vediamo prendiamo una retta del fascio di centro B e proponiamoci di cercare la sua corrispondente la retta la chiamo X' quindi cerchiamo la sua corrispondente ora la retta X' come tutte le altre rette del fascio di centro B intessica il sostegno A e quindi trovo un punto che posso chiamare 3 e il corrispondente di 3 in questa prospettività di passaggio si trova allineando con il centro S fino a intersecare la retta sostegno A' che sarebbe questo in un punto che trovo qua sotto nel punto 3' che si trova qua sotto nell'allineamento nell'intersezione di queste due rette anche questo è un punto inaccessibile oggi siamo particolarmente sfortunati ma non importa non cambia nulla e poi ultimo passaggio unisco questo punto 3' con A cosa trovo? la sua corrispondente la corrispondente dovrebbe essere questa che passa per 3' cioè dove queste due si intersecano e vi faccio notare che senza saperlo perché noi abbiamo fatto finta di non sapere che questa è una prospettività le due rette corrispondenti x che è questa che ho appena trovato x' si incontrano sull'asse quindi io in questo caso ho anche una riprova del procedimento tutte le rette che troverò corrispondenti dovranno intersecarsi su un'unica retta che è appunto l'asse della prospettività ora una cosa interessante che vi faccio subito vedere è che rimettiamo insieme insieme i pezzi vi faccio vedere un po' perché è così particolare il centro della prospettività e perché quindi ricomponiamo tutto vediamo che esiste anche l'elemento unito l'elemento unito è l'intersezione e la scusate la coppia di rette sovrapposte quindi questa che passa per A e per B è l'elemento unito chiamiamo la retta U vi faccio notare che il parallelogramma che stiamo costruendo potrei usare l'evidenziatore il parallelogramma che stiamo costruendo questo che per una parte va fuori dal foglio però abbastanza chiaro qual è come è fatto ora questo parallelogramma di vertici 3 3' che sta qua sotto questi altri due anche loro dovrebbero avere un nome però non abbiamo questo parallelogramma sappiamo che è costruttore del quadrilatero del bi rapporto armonico questo quadrilatero chiedo scusa quadrilatero completo e noi sappiamo che è costruttore del bi rapporto armonico e quindi cosa deve succedere deve succedere che quattro punti che io individuo su questa retta sono in rapporto armonico quali sono questi quattro punti sono proprio a b s quindi s sappiamo che si trova qui in realtà infatti per pochissimo anche facendo un disegno a mano libera per pochissimo ci è venuto proprio su questa retta quindi significa che è proprio così e poi il quarto è l'intersezione tra l'asse e l'elemento unito quindi questi quattro punti sono il rapporto armonico ok perché il quadrilatero è costruttore del bi rapporto armonico il quadrilatero completo e magari farò un video sul quadrilatero completo costruttore del bi rapporto armonico importantissimo in diverse applicazioni nella prospettiva e che in geometria proiettiva è stato fondamentale per dimostrare sostanzialmente dare corpo diciamo rigoroso matematico alla disciplina stessa perché che è fondamentale per il birrapporto e il birrapporto è quell'elemento quell'invariante proiettivo di tipo metrico che serve fondamentalmente a dimostrare a dimostrare il teorema fondamentale della proiettività e cioè un teorema che magari vedremo in seguito che ci dice che una proiettività tra forme di prima specie è data a partire da tre coppie di elementi corrispondenti cioè se io ho per esempio due punteggiate la punteggiata a e la punteggiata b e ho tre elementi di queste due punteggiate questo poi potrebbero essere sia prospettive che proiettive la corrispondenza è determinata passano tre coppie di elementi cosa vuol dire che se io ho queste tre coppie di elementi per esempio i punti a b c sulla prima a b c primo sulla seconda retta io posso a partire da questi tre punti corrispondenti determinarne un quarto che è unico ok e questo perché dati tre punti è un certo valore che è il valore del bi rapporto è possibile determinare il quarto ok e quindi il bi rapporto è importante per questo motivo però magari farò dedicherò magari un video per spiegare questa questo teorema e per parlare anche del quadrilatero completo ora dato che il video si è fatto anche abbastanza lungo possiamo fermarci qua e magari riprendere la prossima volta con il medesimo procedimento però applicato questa volta a due punteggiate cioè faremo finta che le due punteggiate non siano prospettive e cercheremo di applicare questo stesso procedimento diciamo in modo duale per praticare quella prospettività troveremo come vedremo non più un centro di collineazione ma un asse l'asse della collineazione e faremo magari altre considerazioni allora per chiudere potrebbe venire in mente un dubbio abbiamo fasci fasci dirette punteggiate e poi non si parla mai del fascio di piani anche il fascio di piani è una forma di prima specie quindi anche i fasci di piani possono essere messi tra di loro in corrispondenza però non se ne parla mai per un semplice motivo perché il fascio di piani può essere sezionato e quindi si può ripartire dal fascio di rette quindi sostanzialmente parlare fare un esempio che sarebbe più laborioso da esporre da disegnare per i fasci di piani ecco non si fa mai proprio per questo motivo perché sostanzialmente si tratterebbe di ripetere le medesime considerazioni che si fanno per il fascio di rette perché seziono un fascio di piani e ottengo un fascio di rette quindi mettere in relazione due fasci di piani sostanzialmente significa questo grazie per aver seguito il video a presto e arrivederci